E' la Igor Volley Novara a staccare il biglietto per la semifinale dei play-off del campionato di volley femminile. Le ragazze di Lorenzo Bernardi battono Chieri 3-1 nei quarti di finale, partita disputata in casa. Scenderanno in campo contro Conegliano, l'altra semifinalista. Gara 1 sarà domenica alle 20.30 sul terreno delle Venete. Al Pala Igor le Novaresi perdono il primo set 22-25 ma non si arrendono nel secondo set punto a punto fino alle battute finali. Si chiude 25-21. Chieri non mola e continua a macinare punti ma Novara resiste. Dopo essere stata a lungo in svantaggio riaggancia alle avversarie 21 pari e chiude il terzo set 25-22. La prima parte dell'ultimo tempo vede Novara in vantaggio poi raggiunta 17-17 e poi ancora 19-19. La Igor continua la sua marcia verso la vittoria e chiude il match con un punto decisivo di Marina Markova, elemento fondamentale in attacco in difesa con 25 punti al suo attivo. Ottima la prestazione però di tutta la squadra. In evidenza ancora una volta il capitano Caterina Bosetti, Greta Sciacmari, Anna Danesi e Sara Bonifacio. Per Chieri ottima prestazione del capitano Caia Grobenna. Appuntamento domenica prossima per gara 1 della semifinale. Grazie. Grazie. Grazie.